Salve amici del Centrometro Italiano, molte nuvole in transito sulla penisola a causa di una perturbazione atlantica. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 8 marzo. Nuvolosità irregolare al mattino da nord a sud, localmente anche compatta ma senza fenomeni di rilievo associati. Locali precipitazioni solo su Friuli e tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio deboli fenomeni su Liguria, Alpi orientali, Friuli e regioni del centro. Neve oltre 1500-1600 metri sulle Alpi. Variabilità asciutta altrove. In serata e nottata il tempo in prevalenza asciutto su tutte le regioni ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature stazionario in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Medi Italiano.